Massima allerta negli spostamenti aerei e via mare con un occhio particolare agli arrivi dalle località definite. Ad alto rischio la polizia di frontiera di Bari ha intensificato la propria attività di prevenzione e di controllo anche alla luce delle recenti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 21.000 le persone identificate, 5 arresti e 4 denunce. Questo il bilancio dell'attività a cavallo di Ferragosto. Il 14 agosto presso il porto del capoluogo pugliese un cittadino siriano di 24 anni è stato arrestato per l'utilizzo del possesso di un documento di validità falso. Il giovane cercava di imbalcarsi su un traghetto di linea diretto in Grecia avvalendosi di un passaporto ordinario contraffatto. In aeroporto invece sono stati rintracciati ben otto cittadini extracomunitari in possesso di documentazione contraffatta. Nel dettaglio 4 persone sono state arrestate dopo essere giunte con un volo proveniente da Santorini in Grecia. I reati contestati sono di possesso ed utilizzo di documenti di validità falsi. Una quinta persona, un 29enne siriano, è stato denunciato per sostituzione di persona. Ancora controlli anche per tre persone in arrivo da Malta, due cittadini sudanesi sono stati denunciati per sostituzione di persona e uso di atto falso, stesso provvedimento per un 21enne guineano. Infine sono state elevate due sanzioni amministrative nei confronti di due cittadini albanesi per violazione della quarantena fiduciaria.